Sei container ogni ora e il ruolino di marcia stabilito da ONU, OPAC e Nato per il trasbordo dall'Arc Futura alla Cape Ray dei 78 container pieni di gas ed agenti chimici letali. Le operazioni sono iniziate stamattina intorno alle 8. L'arsenale non convenzionale del regime siriano sequestrato dalle Nazioni Unite potrebbe essere caricato tutto a bordo della nave statunitense entro le 21 di questa sera. Operazione veloce, pulita e svolta a tempo di record grazie anche alla praticità dei 30 specialisti in movimentazione messi a disposizione dalla MedCenter, la società che gestisce il porto di Gioia Tauro. Il tutto sotto gli occhi degli inviati ONU e degli ispettori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. A bordo della nave danese Arc Futura ci sono 750 tonnellate di sostanze letali. Tre dei 78 container sono pieni di prite, gli altri 75 di sarin. Il porto di Gioia Tauro è controllato da un imponente sistema di sicurezza. A largo incrociano le navi da guerra della Nato di scorta all'Arc Futura e alla Cape Ray. Operazioni controllate dall'alto dai satelliti ed elicotteri con gli F-16 e gli F-35 dell'alleanza pronti ad intervenire. Nello scalo insieme ai tecnici della nave USA sono impegnate alcune squadre specializzate dai vigili del fuoco. Secondo quanto si è preso, 600 delle 750 tonnellate di sostanze letali a bordo del cargo danese saranno imbarcate sulla Cape Ray che farà rotta verso il Mediterraneo Sud Orientale. Il procedimento di annullamento dei gas velenosi avverrà in mare aperto tra Malta e Creta. L'Arc Futura procederà invece alla volta di un porto britannico dove verranno sbarcate 150 tonnellate di altri agenti chimici.